Quando ti buttavano in mare con l'aereo il problema era non morire e allora io sono diventato bellissimo nell'amarrare con l'S-79, scivolare sull'acqua, coprirmi l'acqua ma poi l'S-79 era fatto di legno e stava a galla e allora quello era un momento di felicità e in uno di questi momenti anche l'inglese che sparava contro di me era caduto anche lui e allora noi seduti sull'aereo di legno abbiamo visto questo che nuotava un po' più a largo e ci avevamo fatto segno di venire sull'aereo con noi e allora ho dato ordine che ognuno di noi si levasse un capo di abbigliamento e lo desse a sto poverazzo.